Minister, buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Buonasera. Dicevamo, oggi vittoria importante che forse, a parte il fatto che si interrompe una striscia non proprio positiva di risultati, ma anche arriva in una giornata in cui le altre hanno rallentato tutte. Chiaramente siete forse all'inizio della vostra stagione. No, ma oggi per noi è una partita molto troppo importante. Non potevamo perdere quelle distanze mentali che non ci permettevano poi di stare aggrappati a un gruppo di squadre che da qui alla fine si contenderanno gli ultimi due posti, i posti in quello che è la Griglia Replea. Ma giusto anche perché abbiamo recuperato qualche giocatore, perché non dimentichiamo che veniamo da tantissime detenzioni che non ci hanno permesso di poter schierare una formazione tra virgolette recente. Oggi siamo stati in grado di poter sfruttare tutti gli effettivi e quindi credo che abbiamo fatto una grossissima partita a cospetto di una squadra importante come il Troina, che con tante qualità, credo che non mi ricordo se il primo tempo, per dire la verità, non abbiano mai superato metà campo. Quindi credo che abbiamo fatto una grandissima partita sotto l'aspetto dell'intensità. Ci stava un calcio di rigore che dobbiamo vedere le immagini per quanto sia clamoroso. Un gol annullato per fuorigioco, credo ingiustamente, ma al cospetto dei 90 minuti credo che la Pianunese abbia merito oggi i tre punti in classifica. Sì, decisamente. Battere il Troina, che è una squadra da griglia playoff, quinta posizione in questo momento, significa che ha un grande valore. Questo gol è arrivato nella seconda frazione, mister, Tiboni. Sì, sì, su un'azione da calcio d'angolo, scassione di testa, Tiboni, che l'ha fatto col prima, l'ha annullato, il ragazzo ha fatto una grande partita, come l'ha fatta anche nelle partite precedenti. Oggi si è sbloccato, mi fa molto piacere per lui e speriamo che da qui al futuro possa sempre di più essere determinante per la nostra squadra. Sì. Il cammino comunque è difficile, è chiaro che non si possono guardare gli avversari, non si guardano, però bisogna affrontarli a testa bassa con il coltello fra i denti per cercare di ridurre queste distanze, anche perché il campionato è difficile per tutti. Quindi si apre concretamente la possibilità per la Palmese di risalire la china? Ma la Palmese ha il dovere di continuare a stare in campo mentalmente e fisicamente per tutto il campionato. Noi cercheremo in tutti i modi di poter salvare la squadra. La squadra significa impegnarsi, la squadra significa non incullarsi da quello che è stato. Oggi ci votiamo questa vittoria, domani penseremo a Licata, una partita molto difficile, ma molto interessante. Quindi abbiamo da studiare bene l'avversario, da allenarci, da rispecchiarci guardando quello che abbiamo fatto e cercando di raddoppiare le energie perché domenica è ancora una volta un altro appello che non dobbiamo assolutamente. Un altro appello che non dobbiamo assolutamente diceva? Sbagliare. Ah, sbagliare, sbagliare. Si gioca in casa dell'Icata, prossimo impegno appunto, in casa dell'Icata 1, poi il derby con il Castrovilla, rigiocherete poi in casa il Biancavilla, prima dello scontro diretto, chiamiamolo così, con il Santommaso. Lo chiamiamo adesso scontro diretto, magari in quell'occasione l'avrete già messo sotto, ve lo auguro, chiaramente, mister, e per i colori nero-verdi, insomma, che possano mantenere la categoria. Sì, queste sono partite per giocare in casa, dobbiamo cercare di ottenere sempre il massimo. Il massimo dobbiamo cercare di ottenere domenica l'Icata, però rimanendo con i piedi per terra, avendo rispetto di quello che sono gli avversari, ma consapevole che se oggi abbiamo battuto una squadra forte come il Troina, ci deve servire per monito affinché riusciamo a capire che anche noi possiamo dire la nostra e dobbiamo migliorare e credere in quello che facciamo quotidianamente.